Buongiorno e benvenuti ad una nuova settimana in compagnia di Mattina Live. Iniziamo questa mattina parlando di Ligna alla Scuola, il format che Mattina Live porta avanti con la Fondazione Cultura e Innovazione. Ligna alla Scuola è una vera e propria testata giornalistica dove i ragazzi sono reporter, grafici, tecnici del suono, delle luci, giornalisti, insomma, vivono l'esperienza dalla penna alla televisione in prima persona. E oggi con noi abbiamo i ragazzi dell'Istituto Amendola di Amicis di San Giuseppe Vesuviano, organizzatisi in redazione proprio con la sottoscritta. E dunque saluto in primis la docente Maria Carbone, buongiorno, e poi Giuseppe Carbone, buongiorno, Rosa Ambrosio, buongiorno, Anita Ciniglio e Rosanna Arangella, buongiorno. I ragazzi ovviamente in rappresentanza della scuola e dell'istituto. Dunque inizio proprio dalla docente, professoressa Carbone, sono stati tre incontri molto intensi, i ragazzi si sono approcciati a questa nuova esperienza. Che tipo di lavoro è stato? È stato un lavoro molto interessante e coinvolgente, anche se impegnativo, perché in effetti gli incontri sono stati articolati di pomeriggio, quindi per i ragazzi dopo sei ore di attività in aula, non era stato facile, però grazie anche alla professionalità e al coinvolgimento che è stato dato dalla presentatrice, da lei, i ragazzi inizialmente erano spaventati dall'impegno che era richiesto loro, ma poi si sono profondamente affezionati. Ovviamente questa attività è stata sostenuta dal dirigente scolastico, l'ingegnere Michele Antonio Iovine, che è sempre aperto ad accogliere e a sostenere le iniziative che provengono da altre agenzie formative, tra le quali appunto la vostra associazione che è in cultura e innovazione, che ci ha proposto questo format. Il progetto in realtà è inserito in una più ampia cornice che è quello di Orienta Life, che è stato seguito dalle nostre funzioni strumentali sull'orientamento, la professoressa Ambrosio Pasqualina e Masecchia Ornella, e ci ha proposto una serie di attività tra le quali abbiamo scelto proprio questa di linea alla scuola. Quindi Orienta Life ovviamente è un'attività che li orienta anche proprio al mondo del lavoro. Giuseppe, nel corso di queste lezioni avete avuto modo di capire quindi che cosa significa essere una vera e propria redazione televisiva, quindi avete toccato con mano ovviamente tutte le varie professioni e vi siete riuniti in gruppi, vi siete organizzati, avete affrontato delle tematiche sempre differenti. Che tipo di lavoro è stato svolto? Per rispondere alla domanda io vorrei ringraziare la professoressa Carbone che è qui con noi e tutto il consiglio di classe che ci ha seguito durante questa esperienza e tutti i miei compagni di classe, la terza F dell'Amendola di Amicis, che ci ha supportato durante questo progetto. Il mio compito è stato quello là di immedesimarmi nei panni di un caporedattore, infatti ho dovuto seguire tutti i lavori che i miei amici mi avevano dato. Penso che questo lavoro è stato sia complicato che divertente. È stato difficile? Sì, è stato abbastanza difficile perché ambientarsi in un mondo nuovo non sempre risulta facile, infatti ho dovuto ricercare informazioni, informarmi su argomenti di cui ne ero ignorante, invece è stato divertente perché si è creato uno spirito di squadra tra me e i miei compagni. È vero. Rosa, alla fine che cosa è venuto fuori da questi tre incontri? Allora, sicuramente ci siamo, abbiamo, innanzitutto grazie dell'opportunità sia a lei che alla scuola. Da questi tre incontri sicuramente ci siamo acculturati perché abbiamo, diciamo, ingrandito il nostro bagaglio culturale, ma siamo anche riusciti ad accettare, diciamo, le idee altrui e ad essere meno egoisti rispetto al compagno di classe e comunque a includere tutto il resto della classe, anche quei compagni che di solito partecipavano un po' di meno. Ecco, questo è importante appunto quando si lavora in gruppo, non sempre si è d'accordo e si deve trovare sempre un punto di incontro. Anita, che esperienza è stata quindi essere parte di una vera e propria redazione televisiva? Per me è stata un'esperienza molto bella, anche perché tutti noi, in primis grazie per l'opportunità, e anche perché tutti noi eravamo curiosi di sapere cosa si nasconde dietro a un programma televisivo e tramite questa esperienza siamo riusciti a dare una risposta alla nostra curiosità. E dato che l'abbiamo fatto tutti insieme come classe, è stata come una vera e propria redazione televisiva, quindi è stata veramente molto bello. Avete praticamente formato un'intera puntata con nove blocchi di mattina live di questo programma. Adesso lo vedete qui, lo toccate con mano nei nostri studi. Rosanna, qual è l'aspetto quindi di questa esperienza? Uno su tutti che hai preferito? Sicuramente, diciamo, il lato che, soprattutto, grazie per averci ospitato qui e per averci dato la possibilità di, diciamo, accrescere le nostre esperienze in un ambiente diverso, quindi come quello televisivo, e comunque dando inizio, diciamo, anche a, come devo dire, per il lavoro, diciamo. Certo, assolutamente, potrebbe essere un'opzione per il vostro prossimo lavoro. Per esempio, a te piacerebbe un domani far parte di una redazione televisiva? Sicuramente un'opzione perché ero già interessata e comunque con questo progetto sono riuscita a vedere delle cose che ovviamente non sapevo e devo dire che è stato molto bello anche per questo e credo che sia stato uno degli aspetti migliori, comunque vedere cosa si nasconde dietro questi programmi e soprattutto è stato molto bello lavorare in gruppo e aiutarci tra di noi. Ecco, quindi professoressa, un'esperienza veramente unica a 360 gradi che ovviamente li amplia, ecco, anche nel loro bagaglio formativo rispetto a quelli che potrebbero essere le loro opzioni per il loro futuro. Sì, è stata sicuramente un'esperienza formativa e io sottolineerei l'aspetto orientativo, non in quanto conoscere nuove attività che possano appassionarli in futuro, ma soprattutto per l'acquisizione di competenze quali le soft skills che sono utili in qualsiasi ambiente lavorativo. Infatti loro hanno acquisito in primis una capacità comunicativa, la capacità di lavorare in gruppo, la capacità critica, la capacità di includere e sono tutte competenze che sono fortemente richieste in qualsiasi ambito lavorativo soprattutto in un mondo che è sottoposto a continue spinte e quindi a continue evoluzioni e opportunità lavorative. Quindi Giuseppe, ti piacerebbe un domani far parte di una redazione televisiva? Sì, infatti io fin da bambino ho sempre amato il mondo della televisione e mi affascinava perché pensare a un lavoro in cui molte persone ti guardano ti rende sia felice che contento, anche se ci sono delle difficoltà, per esempio, che non puoi sbagliare. Esatto, e poi ci sono un sacco di figure che sono anche alle spalle della telecamera quelle che abbiamo, insomma, cercato di studiare. Tutto lo studio, la redazione, quella che abbiamo cercato di raffigurare. Rosa, ti piacerebbe domani? Sì, certo, mi piacerebbe molto, soprattutto perché mi ritengo abbastanza, diciamo, brava. Vabbè, giusto. Mi ritengo abbastanza brava, diciamo, nel ricercare le informazioni e quindi di magari un giorno fare qualche intervista a qualche persona che mi interessa, di qualche argomento che appunto... Quindi proprio giornalista. Sì. Bene. E invece Anita? Allora, io in particolare sono molto appassionata a questo mondo. Già da un po' frequento, ho già un'accademia per questo mondo e io, riguardante giornalista, prendere in considerazione l'idea. Mi ha passato. Ricordo che tu frequentavi un'accademia, ovviamente, per la recitazione, giusto? Quindi anche tu vorresti entrare comunque nel mondo della comunicazione, della televisione, in generale dell'arte tutta. Ebbene, allora, io vi ringrazio di essere state in nostra compagnia questa mattina live e quindi ringraziamo ancora una volta l'Istituto Amendola De Amicis di San Giuseppe Visuviano, i ragazzi qui in rappresentanza della classe del progetto di linea alla scuola, quindi Giuseppe, Rosa, Anita e Rosanna e in primis ancora di più la docente che li ha accompagnati stamattina, Maria Carbone. Grazie mille, professoressa. Grazie a lei per l'opportunità e per la formazione che hanno ricevuto i ragazzi. Complimenti a voi. Grazie. Pubblicità a tra pochissimo con Mattina Live. Ciao.